15 giorni per quattro gare si inizia il primo dei recuperi contro il Porto Sant'Elpidio dell'ex Ottavio Palladini ed Alessandro e di Alessio Gelsi. Bitetto fa a meno solo di De Cerchio. Squalificato e schiera Cipriani a fianco di Danna e Massetti nel centro. Tanti indisponibili fra i biancazzurri soprattutto fra i tre di difesa mentre a far coppia con Perri nell'attacco a due c'è Carissimi. Centrocampo quasi titolare invece dove il quinto al posto di Cesetti c'è Pier Domenico. Con le immagini di Maria Caranante partiamo dal minuto nuovo gran lavoro di Paudice che lavora un ottimo pallone per l'inserimento di Tedone diagonale potente ma non con la giusta curva. Decimo è Perri sul lato corto che riesce a parabolare sull'angolo opposto a quello di tiro. Palla velenosa per le mani di Morra. Due minuti dopo tacco di Cipriani che mette involontariamente in azione il destro di Carissimi. Ancora Morra che alza sopra il legno e poi ancora la testata di Aliffi a portiere fuori causa. Massetti evita il gol sulla linea. Finisce qui praticamente il momento vivace della formazione ospite alla mezz'ora è quasi cinismo giallorosso Paudice per Cipriani che ha la felice intuizione di puntare l'avversario e credere nel suo destro che uccella Cavalieri. 1 a 0 da qui alla chiusura di tempo. Una prima mezz'ora in cui ha prevalso la gamba bianca azzurra fino al gol che ha anche smorzato la foga ospite e dato più ordine alle idee del Giulianova. La ripresa parte in copia come l'inizio di Contesa. Paudice per Tedone ma stavolta non fallisce la mira ed è 2 a 0. Bell'azione. Barlafante, Cipriani, Paudice e gli autori della combinazione alla quale manca solo il gol. Acuto del Porto Santo Elpidio poco dopo Gusteri appena entrato spostato di lato con il subentrato Cesetti è pericoloso in area e guadagna solo un angolo. Da lì Aliffi perentorio di testa, Mora miracoloso di risposta. Serie di cambi ma più che altro si perdono consegne e lucidità. Molta approssimazione e zero vere occasioni se non per Forcini al 49esimo ma non ha la forza giusta. Praticamente più nulla da raccontare quindi fino al termine missione compiuta per il Giulianova che voleva e doveva incamerare l'intera posta per i ragazzi di Ottavio Palladini una vivace porzione di tempo ma purtroppo l'ultima posizione in classifica scavalcati anche dall'agnogenese.